Ciao a tutti, anche quest'anno si riaprono le centinaia di porte, di parchi, di palazzi, di giardini, di tutta Italia. Si riaprono perché? Perché le riapre il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Tra sabato 24 e domenica 25 marzo saranno ben 670 i beni artistici aperti al pubblico, uno svario. Perciò avrete una vastissima scelta di posti da visitare. Però prima di farlo, fatemi una domanda. Per tanti posti aperti, quanti ne restano chiusi? Ecco sappiamo tutti che l'Italia è un paese ricco di bellezza e di cultura. Spesso purtroppo abbandonata e dimenticata. Allora anche noi giovani possiamo aiutare il FAI. Io lo sto facendo, lo puoi fare tu. Invia un sms al 45504 oppure chiama da rete fissa al 45504. Potrai donare 2, 5 o 10 euro. A voi, scegliete voi l'importo. Aiuta il FAI però a fare di più, dai. Ad aprire sempre più porte, a far circolare più cultura. E ricorda, più bellezza si apre, più si salva l'Italia. Perciò fino al 25 marzo invia un sms al 45504. Che fai? Non mi aiuti il FAI? E dai no.